ragazzi benvenuti a cucina con mic innanzitutto buon anno iniziamo subito con una ricetta facile ho con me francia corta rosé invecchiato 60 mesi un vino spettacolare fatto soltanto di uva nera pinot cosa ci cuciniamo piadina prosciutto cotto galbanino mozzarella giardiniera faremo un sushi un sushi piadina una volta abbiamo scaldato la piadina due minuti in forno prenderemo galbanino e prosciutto cotto lo andremo a stendere sulla piadina in maniera molto semplice prendiamo il prosciutto cotto lo andiamo a stendere sulla piadina in maniera omogenea mi raccomando poi arrotoliamo la piadina e ora facciamo un pochino di pressione per renderla e lasciarla così rotonda come fosse un rotolo di sushi andiamo a togliere le estremità via questo ora prendiamo i nostri rotoli e li mettiamo in forno dieci minuti che si rosolano i nostri rotoli sono croccanti al forno dopo dieci minuti con il forno messo a grill ora andiamo a mettere un po' di mozzarella su ognuno di loro e di nuovo in forno eccoli qua i nostri rotoli guardate che spettacolo li prendiamo come fosse un sushi ora su ognuno ci andiamo a mettere un pezzettino quindi carciofino funghettino e oliva e voilà top e